e ben a tutti ragazzi siamo qua tornati in un nuovissimo video con il Bricks oggi siamo qua a fare una gara in multiveicolo anzi la gara abbiamo appena fatta quindi vi lascerò direttamente da dove è partita gara pazza ne io ne buon tito che qua con me è live sapevamo come guidare gli aerei quindi è venuto a cuore un disastro prima di cominciare vi ricordo di commentare lasciare un bel mi piace e condividere il video con tutti i vostri amici detto questo buona visione ma perché mi butta in cima una montagna anche a me mi ha buttato il suo caso in mezzo allora attività via attività create da rockstar gara abbiamo detto si si ok ritiene una bella tipo quei tubi e quelle robe lì e dovrebbe essere questa che almeno ci dispiiamo un po' ok eccole qua corvette ma io direi qua questa ma a caso eh parte scommestina io no ma dai si scommette sempre un centello dai si scommette sempre un centello ma dai ci sono si ho visto che ci sei guarda c'è lico che è un cinese cattivissimo l'olovax che è proprio quelli rossi e poi vabbè c'è tito che è un barbone con il cappello eh guarda che macchina ho preso ah mica l'olovax subito primo eh ma la mia se slitti aiuto sposta di gabriel ma no che bot come ho preso eh ma hai fatto sbandare anche a me eh questa è più divertente che ha un po' di curve che puoi sbagliare sì ma guarda chi è che mi continua a buttare fuori eh o è gabriel o è lollo ma mi sa gabriel perché lollo era primo uh loro aveva sbagliato ma no aveva fatto una cannata non sono stato abbastanza furbo da da pregarlo ma perché non va niente la mia macchina madonna madonna che botta che mi sono preso o sei tu che hai scelto quella macchina io non so che macchina hai scelto nonostamente eh no nel senso che quando tipo per fare le curve eh tira dritto non curva niente eh l'olovax ha concluso nooo infame allora due chilometri è un po' poco ovviamente fare solo un giro allora sei di due chilometri alla gara no no cambia la gara perché sta qua sì sì io scommetto mille eh bravo vabbè io scommetto 100 e ne vincerò almeno 3000 quindi va bene vediamo un po' il buon tito ah tito ha finito io sì ok dopo aver tirato dritto contro due sassi gabriel non sa dove sta andando ha perso completamente le condizioni di caldo dove sta andando arrivato due oh yeah quindi due chilometri sono circa un minuto e venti ah io non ho preso neanche un soldo neanche io non so per quale motivo però vabbè adesso ci pensiamo io direi che prendo questa gpi cos'è questa macchina eeeh i have pen i have i have nepple davvero quella di prima fighissima l'ho vista pineapple pen ti ricordi la cazzucina multiveicolo vediamo un po' che macchina come si chiama ah l'hai preso la mia credo non so la grotta è preso la grotta è preso mamma mia guarda quanta scia sto lasciando dietro adesso mi vengo adesso mi sono venito a impularmi lo so già oh diventiamo un aereo un aereo un aereo un aereo ma non so usarlo l'aereo come si usa come si fa non lo so ma non so non so usare l'aereo ma non ci fa non ci fa lo scende try pero non so usarlo l'aereo managgia neanche io non le ce l'ho usare ho capito più o meno e io forse no che schifo un multiveicolo non dobbiamo più farla non sto a guidare sto coso sono ancora terzo ok ho preso il primo checkpoint oddio ok sono una macchina che bello anch'io sto aiutando la macchina adesso penso spero si sono una macchina oh finalmente tu la trovi a fare il multiveicolo di nuovo l'elicottero mannaggia no io mi schianto Tito ti sorpasso guardami t'ho preso t'ho preso t'ho preso t'ho preso sto volando contrario sono fortissimo il mio non va no sono uscito fuori dalla pista il mio non va ce l'ho fatta ce l'ho fatta via sono secondo Glico si è suicidato nel frattempo Lorenzo mi sa che ciao Tommaso Nori nel frattempo Lorenzo mi sa che è avantissimo rispetto a noi lo sai eh c'è anche a me eh non ci dice come si usano i bottoni ha fame non va bene così è già l'elicottero Lorenzo è aereo di nuovo eh come di nuovo aereo eh si eh si nuovo aereo eh si micchia giro della morte giro della morte è un po' l'entrum giro della morte però ce l'ho fatta mi sa che schiatto adesso come schiatti eh non so ok adesso divento l'elicottero divento aereo e quindi qua ho più o meno capito come si gioca come si guida più o meno eh poi io no no dai che botta che v'ho preso il problema è quando quando ti gira a cannone devi fai pomare e spawnare eh lo so tu dove sei? sto limitando una macchina non ci credo non l'ho preso adesso il titolo mi sorpassa si eh lo sapevo guarda che mi ha sorpassato ce l'ho fatta adesso da chiappo dito sono qua dietro non accedere la mia macchina dai perché non prendo mai la scia e voi sempre non lo spiegate ancora elicottero si ancora no vado a dire se mi esploso fidati che è un casino eh ho notato che è un casino ah di nuovo beh ti prego finisci la sta gara Tommy ma tu giochi? posso giocare a DTA a me ha come guido storto cos'è successo? aiuto no ho mancato ho mancato completamente il coso comunque ho capito come si guidare l'elicottero io due volte che mi sono schiantato tre volte adesso non riesco neanche a prendere il primo checkpoint no ho capito devi sempre prendere il botone sinistro si lo so mi schianto no se sei messo il botone sinistro ha cavolato Tito io alcevo un peccettino alla volta eh io non riesco neanche a prendere il botone sinistro ma sono esploso malissimo anch'io quattro volte cinque con questa resta fe ah lollo adesso ho capito come funziona l'elicottero poi gli dico sempre l'elicottero no l'aeroplano vengo a chiapparti eh c'è la settima volta che mi schianto vieni qua lollo vieni qua cambio il veicolo ok eccoci qua guarda lì lollo vax te l'ho preso te l'ho preso te l'ho detto che ti prendevo no una volta che esplodo te l'ho detto che ti prendevo l'ore mamma mia numeri 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 no l'ha mancato ho mancato l'ultimo è difficilissimo usare sto cazzo di elicottero aeroplano di merda ma ce n'è un'altra volta l'aereo dopo la macchina e e quanto dura sta gara e penso che sia quasi finita spero perché non ce la faccio più ci sono ancora macchina adesso però vedo lo vedo si è appena ribaltato è la mia occasione lollo ti prendo ti prendo ti sono qua dietro guarda che ce l'ho superato all'ultimo non ci credo non ci credo all'ultimo all'ultimo ha fatto l'erroraccio della vita non ci credo incredibile ragazzi questo diventa un video per il canale youtube vi ringrazio vi commento saluto di viattentissimo se volete attreggare di questo tipo faccio sapere lasciate un mi piace prima di chiudere il video ciao ciao